Il Dio, dunque, vi dimostra chiaramente che le speranze umane sono cieche e false per levare l'animo vostro alle cose celeste. Il vostro Creatore vi percotte spesso per destarvi a ciò che voi vi leviate dal grave sogno nel quale siete stata molto tempo, più amando la vita presente che la futura. Queste, Madre mia, sono potentissime voce dal cielo come saggitte, le quali fortemente, a levarvi l'affetto dalle cose terrene e caduche, gridami, credite a me, Madre e sorelle mie, e fratelli tutti diletti, che il dolcissimo Jesu e clementissimo nostro Salvatore vi viene dretto, gridando, venite al Regno mio, lassate questo mondo pieno di malignità ed enequizia. La pace e la carità di Dio sia sempre con voi. Amen. Vostro figliolo, frate Ieronimo Savonarola, laudate il Dio nel suo santuario, laudatelo nella distesa della sua gloria, laudatelo col suon della tromba, laudatelo col saltero e con la cetera, laudatelo col tamburo e col flauto, laudatelo con cembali sonanti, laudatelo con cembali squillanti, ogni cosa che ha piato, laudi il Signore. Alleluia! 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.